Alla Rai di Bologna il cartello a cui ogni spettacolo aspira. C'è invece chi aspira ad esibirsi e sono i dilettanti. Aspettano la prova che li porterà sul palcoscenico. Un'emula della bandissima. Non mi ha pentito? Lei pischia sempre così? No, pischio molto meglio quando sono in bagno. Il commento al regista Gagliardini. D'accordo, vediamo quando si sposa, va bene? Questo vuole imitare il pianto del bambino. E così arrivano alla ribalta. Una bella sera della loro vita potranno raccontare un delirio. Il teatro crollava dagli applausi.